Siamo qui con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Rovigo, Francesco Noce, che ha appena ricevuto anche un nuovo incarico, infatti sarà il Presidente dell'Ordine dei Medici del Veneto, corretto? È corretto, sì. Complimenti intanto per la nomina, che cosa consiste? Consiste nella rappresentanza di tutti gli Ordini del Veneto, c'è un consiglio direttivo che è formato dai Presidenti degli Ordini dei Medici di tutte e sette le province del Veneto, è composto anche dai Presidenti della Commissione Odontoiatri di tutte le province del Veneto ed anche da alcuni consiglieri eletti nei vari Ordini. Oggi è la giornata del Medico Polesano, in cosa consiste questa giornata? È una giornata di festa per la nostra professione, è una giornata che si svolgerà in vari momenti, il primo momento sarà la consegna d'oro di un caduceo d'oro ai Medici nel loro cinquantennio di laurea, e che ringraziamo per l'impegno e per la dedizione che hanno messo 50 anni di professione. Premieremo con un caduceo d'argento tutti i colleghi che compiono 25 anni di laurea e li ringraziamo per il loro costante impegno, per la professione che continuano a svolgere con molto impegno e con molta capacità. Passeremo poi alla premiazione di due borse di studio che sono gestite dall'Ordine dei Medici di Rovigo, una voluta dal Dottor Previtali in memoria del suo figliolo scomparso durante gli studi di medicina in età molto giovane, l'altra voluta dal Dottor Vallese in memoria della moglie che è stata la sua compagna per tutta la vita. Concluderemo la giornata con un solenne giuramento da parte di tutti i giovani colleghi iscritti per la prima volta all'Ordine dei Medici di Rovigo, e loro con questo giuramento prendono un impegno davanti alla società, davanti alle autorità, davanti ai colleghi, ma soprattutto si prendono un impegno con la propria coscienza di esercitare la professione secondo scienza e coscienza, in libertà, autonomia ed indipendenza. Vogliamo fare un augurio a questi nuovi medici che giurano? Che tipo di mondo trovano? Cos'è cambiato da quando lo fece lei il giuramento? È cambiato tanto. La tecnica, l'evoluzione scientifica ha avuto un progresso che è galoppato in questi anni e ci si è trovati di fronte a tanti problemi, è cambiata la società. Sta cambiando il rapporto medico-paziente e dovremmo rivedere un po' alcune nostre attività, perché l'attività del medico non è solo quella del sapere e del saper fare, ma anche quella del saper essere. In questo momento i tempi dedicati al paziente sono sempre più ristretti. questo perché purtroppo ci sono grossi problemi di carenza di medici, i colleghi sono sempre più tempestati da una burocrazia che è ottusa e quindi loro stessi sentono la necessità di avere più tempo per ascoltare il paziente. Non dimentichiamo che anche il tempo di cura, anche il tempo di ascolto è tempo di cura. E davanti al tavolo oggi c'è una sedia rossa con dei drappi rossi e dei guanti rossi. Che cosa significa? E' questa la nostra testimonianza di solidarietà a tutte le colleghe che sono state oggetto di femminicidio e di violenza contro le donne. Non dimentichiamo che la violenza contro i medici in questo periodo è un fenomeno abbastanza antipatico, brutto, non dovrebbe esserci. Il 70% delle violenze è fatte contro le donne. E noi vogliamo testimoniare nei confronti delle colleghe che sono state oggetto di questi atti violenti ma anche di tutte le donne che sono state oggetto di atti di violenza. Con questo noi vogliamo testimoniare la nostra solidarietà. Grazie. Prego, grazie a voi.